È il momento della responsabilità, le dice, e anche delle dichiarazioni? È il momento della responsabilità, è il momento di dire che non esistono santoni, esistono persone brave, che amano la propria professione, come tanti colleghi della provincia di Treviso, medici e medicina generale. Non ci sono santi né miracoli nella lotta contro il Covid, lo scandisce a chiare lettere il direttore generale dell'Ulss2 nel richiamare il sindaco medico di Santa Lucia di Piave Shumsky, una voce spesso fuori dal coro ma sempre più ascoltata, soprattutto sui social. Anche per questo arriva la presa di distanza della sanità ufficiale, due le contestazioni mosse al primo cittadino. La prima riguarda l'uso della contestata idrossiclorichina nella cura dei pazienti. Ben più grave fa intendere però Benazzi le recenti prese di posizione di Shumsky sui vaccini per i quali auspica un richiamo magari scritto dello stesso ordine dei medici. È importante, eticamente importante, che un collega, ecco, non parli male della vaccinazione perché la vaccinazione, continua a ribadire, ci porterà fuori da questo tunnel dell'epidemia. Ma a Santa Lucia di Piave il sindaco medico non ci sta a passare per Novax. Io nasco pediatra, ho cominciato a vaccinare i miei figli che adesso hanno 40 anni quando non erano obbligatorie determinate vaccinazioni, però ragiono sui vaccini, ecco. Non è che se uno mi dice si vaccina comunque e mi si presenta un vaccino nuovo non faccio un ragionamento. Intanto Shumsky continua a rispondere ai quesiti di diversi pazienti che ormai lo chiamano da tutta Italia. Una parola detta in maniera chiara dove si presenta un percorso più definito può aiutare di più e quindi è una questione di fiducia della gente ma non c'è nessun santone. Le posizioni sembrano distanti ma più che a una biura Benazzi chiede un confronto. Dobbiamo in un certo modo dialogare, voglio dire non c'è, non ci sono resistenze assolutamente nei suoi confronti ma la collaborazione deve essere comunque a favore delle persone.